E ciao, piena guerra fredda, Atlantico settentrionale, ambientazione particolare, sopra non si vede niente, acqua, acqua, ma sotto c'è ottobre rosso, sottomarino nucleare russo che sta testando un nuovo propulsore silenzioso. Ma finché era lì, il comandante in prima, Marco, assieme al suo secondo Vassili, decide, Marco, Vassili un po' lì che non sa come si dagli retto o no, di consegnare il pezzo agli americani, ma gli americani non lo sanno, e allora si mettono guardinghi, non sanno le intenzioni, i russi, eh, addosso, a dove è andato, a dove sta andando, e allora bisogna prendere delle decisioni immediate, verificare di nuovo distanza a bersaglio, singolo impulso sonar, e Vassili, ma non capisco signore, di un impulso Vassili, un impulso singolo, prego. occhio, occhio.